Quando si parla di Resident Evil si parla di una delle saghe più importanti e significative nel panorama videoludico, non solo in merito al genere horror o survival horror che ha contribuito a creare, ma in generale ai titoli action in terza persona. Una serie che nel corso del tempo ha avuto alti e bassi, con capitoli molto discutibili in quanto le componenti horror e survival sono state lasciate indietro sempre più di capitolo in capitolo, in favore della componente action, sempre più tamarre al limite del ridicolo in alcuni casi allontanandolo dalle caratteristiche tipiche dei primi episodi che hanno appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo. Soprattutto dal quinto capitolo in avanti Capcom ha puntato moltissimo sulla componente multiplayer in special modo con le modalità cooperative che sfortunatamente hanno piantato anche il seme per alcuni spin off dalla qualità a dir poco scadente come il recente Umbrella Corps, il non ha fatto nient'altro che abissare la reputazione della compagnia e soprattutto la fiducia in essa. Pertanto era un bel po' di tempo che Resident Evil non veniva sviluppato con in mente soltanto l'esperienza in singolo e soprattutto con una strategia in grado di rinnovare questo franchise ormai rovinato da titoli mediocri e sempre uguali. Perciò la via interpresa è stata quella del restyling completo, spostando la visuale dalla terza persona in soggettiva, accostandosi ai canoni di successo degli ultimi anni in quanto è difficile trovare un horror di successo, lasciamo stare di buona fattura, che non sia in soggettivo che è uscito negli ultimi 5-6 anni se non di più. Questo però non è stato un restyling totale, in quanto gli elementi tipici della serie sono ancora presenti e a conti fatti tengono ancora in piedi la baracca, se così possiamo dire. E questo perché se da un lato con Resident Evil 7 hanno battuto nuove piste per la serie, dall'altro c'è stato un ritorno alle origini, soprattutto nella prima metà dell'avventura, concentrandosi molto meno sull'aspetto puramente action, benché sempre presente, ma maggiormente sulla parte survival, sull'esplorazione degli ambienti e sulla risoluzione degli enigmi. Infatti le bocche da fuoco non mancheranno, anche se in quantità limitate le otterrete sin da subito, ma non otterrete tonnellate di munizioni, specialmente per le armi più potente, ma anzi, la maggior parte delle munizioni dovete costruirle anziché trovarle, elemento che sottolinea ulteriormente la priorità posta nell'esplorazione e non nel combattimento. C'è stato comunque un razionamento di questi elementi, in quanto l'intera avventura dura circa 8-9 ore, più si prosegue e più l'esperienza diventa lineare e meno complicata. Gli enigmi presenti sono pochi, ma ben razionati durante tutto l'arco dell'avventura e sanno rievocare dei momenti anche storici nell'intera serie, facendo l'occhiolino ad alcuni enigmi già visti in passato, anche se in maniera molto semplificata. Nessuno tra questi infatti risulta ma anche minimamente complicato, sono tutti molto facili e non richiedono molto impegno. Resident Evil è infatti un titolo estremamente semplice, si lascia giocare e non vi rende quasi mai le cose difficili, e non solo nelle fasi esplorative ma anche nelle fasi di combattimento. Infatti sono presenti un totale di 5-6 creature diverse, senza contare i boss ovviamente, e tre di queste sono delle semplici variazioni della stessa monstruosità, quindi la varietà scarseggia e non poco, in quanto non solo sono sempre le stesse, ma i loro pattern d'attacco sono estremamente prevedibili e facili da contrastare, visto che raramente vi ritroverete a corto di munizioni o di strumenti offensivi. Infatti è richiesta un po' di accortezza nella gestione delle risorse, visto che queste non mancano, ma non ne ricevete mai in quantità eccessiva. Solo in una missione ho notato una sovrabbondanza di risorse, ed era verso la fine, ma molte volte capita di dover aggirare i mostri che vi braccano, anziché confrontarli subito, fin tanto che non trovate un po' di scorte, perché ritrovarsi a secco non è mai una buona cosa, visto che non avete sempre una via di fuga. E sapendo che praticamente in ogni livello ci sarà una situazione in cui sarete obbligati a confrontare le varie mostruosità che lo popolano, è sempre meglio risparmiare, vista di tali situazioni che come ho detto si ripresentano puntualmente. Inoltre il sistema di crafting, che è praticamente lo stesso dei capitoli precedenti, solo con qualche piccola aggiunta, vi obbliga sempre a scegliere con accortezza cosa creare, in quanto tutte le ricette condividono la stessa risorsa, che siano munizioni o medikit. La componente survival quindi c'è tutta, ma è molto leggera e indulgente, soprattutto nella seconda metà, dove munizioni ed esplosivi sono all'ordine del giorno. A luce del fatto che soprattutto nella prima metà dell'avventura sarete sempre braccati da uno dei componenti di questa famiglia di degenerati responsabili di innumerevoli atrocità nel corso degli anni, e sebbene si possono fronteggiare, e in alcuni casi si devono fronteggiare, la strategia migliore è solitamente quella di evitarli e non farsi individuare, proprio per non sprecare preziose munizioni, in quanto sono immortali e torneranno a darvi la caccia puntualmente. Sebbene per certi vesti questo sia un elemento già presente nei vecchi Resident Evil, pensiamo a Nemesis ad esempio, qui in Resident Evil 7 si avvicina molto di più a titoli come Outlast e Compagnia Bella, dove i momenti di tensione sono rilegati proprio a queste fasi in cui fronteggiate un avversario implacabile e praticamente invincibile. Infatti per quanto ci provi, Resident Evil 7 non riesce a incutere timore. Questa ovviamente è una considerazione personale, ma il titolo sebbenevanti un'atmosfera di tutto rispetto non è riuscito a spaventarmi mai all'infuori di alcuni jumpscare ben piazzati. Questo per via di determinati fattori, su tutto il sistema di checkpoint automatici presente che rende i salvataggi manuali quasi del tutto inutili, fornendovi un margine d'errore molto più grande, quindi allentando notevolmente la tensione nelle fasi sia di esplorazione sia di combattimento. Inoltre per quanto il tono generale sia opprimente ostile al punto giusto, è tutto molto prevedibile. Il gioco è diviso in segmenti ben precisi, dove ad esempio quando un elemento della famiglia ti bracca, questo pattuglia sempre una zona predefinita, molto piccola peraltro, pertanto una volta superata sei al sicuro e c'è calma assoluta. Aggiungendo il fatto che le altre creature non possono nemmeno aprire le porte, pertanto se vi inseguono basta sbattergli la porta in faccia e siete a posto. Minaccia sventata. Senza contare che, come ho già detto prima, siete sempre armati, a meno che non giochiate proprio in maniera sconsiderata, avrete sempre con voi una buona scorta di munizioni, pertanto non ci sono mai situazioni di panico vero e proprio. Fortunatamente una volta completato il titolo è possibile selezionare la modalità manicomi in cui i salvataggi sono limitati, le varie creature sono molto più letali e aggressive sin da subito, e quella è sicuramente la maniera giusta di giocare a Resident Evil 7, ma sfortunatamente non è selezionabile da subito, bisogna completare il titolo almeno una volta. Nonostante questo, l'atmosfera è ottima, si respira un senso di decadenza e pericolo in quasi tutte le ambientazioni, che sebbene facciano parte di un unico luogo, eccezione fatta per le ultime fasi, offrono un'ottima varietà, in quanto si va dagli interni della villa, passando per l'immancabile cortile, arrellito di una nave, fino alle miniere che circondano la proprietà dei baker. Davvero un'ottima varietà e quantità di ambientazioni diverse, quindi, e in ognuna è stata riposta molta cura a livello di design, in special modo nelle sezioni ambientate nel passato, in quanto la possibilità di rivivere alcuni momenti della vita di altre persone grazie alle videocassette tipo found footage, come si era visto già nella demo a suo tempo, è una parte ancora presente nel gioco, anche se minima. Sfortunatamente queste sezioni, a differenza della demo, non fanno parte degli enigmi del gioco come la demo lasciava intendere, dove nel video, tramite le tue azioni, influenzavi il presente sbloccando percorsi, porte, contenitori e quant'altro, ma sono per lo più dei flashback che a scopo puramente narrativo, fornendo dettagli anche molto importanti sulla storia e sui personaggi più significativi. Vè solamente un'eccezione in cui l'intera vicenda del video consiste nella risoluzione di un enigma, molto ben studiato tra l'altro, ma questi non si legano alla parte nel presente in maniera significativa, senza soluzioni di continuità o comunque in maniera omogenea, in quanto non ci sono mai delle situazioni in cui se non risolvi un enigma in queste sezioni o non raccogli degli oggetti nel passato, sei bloccato nel presente, che era invece una meccanica che speravo di vedere realizzata, in quanto poteva dar vita a enigmi molto complessi e cervellottici. Il live design però è di buona fattura, con molteplici percorsi da sbloccare, scomparti i segreti e numerose scorciatoie che fluidificano il backtracking, che sebbene sia presente nella prima metà, col progredire dell'avventura scompare, lasciando spazio a una progressione più lineare e story-driven, tenendo conto del fatto che nonostante i molteplici percorsi, le varie sezioni della villa sono tutte di dimensioni molto contenute, non c'è poi moltissimo da esplorare, si passa molto velocemente da un'ambientazione all'altra. Infatti a livello di narrativa questo Resident Evil 7 rappresenta sicuramente un gran passo in avanti rispetto alle più recenti produzioni e non è un elemento che si nota subito. Al contrario, nella prima parte dell'avventura siamo testimoni di una serie di eventi, di una narrativa al limite del ridicolo, con situazioni assurde e gestite male secondo me, che personalmente hanno minato seriamente il mio coinvolgimento nella storia. Ma fortunatamente più l'avventura prosegue, più si fa interessante e le situazioni sopra le righe lasciano spazio a una storyline molto più seria e matura che sa coinvolgere nonostante la non molta originalità. Soprattutto nell'ultimo quarto, gli eventi prendono una piega diversa e la trama acquisisce molta sostanza, culminando in un finale che, sebbene ricordi molto da vicino le vicende di Fear, riesce a essere soddisfacente. Stiamo parlando pur sempre di un Resident Evil, la trama non è mai stato il punto forte di nessun capitolo, c'è sempre l'ombrella che gioca a fare Dio e noi dobbiamo subirne le conseguenze e ovviamente sventare la minaccia. Però nonostante un inizio non proprio dei migliori, la narrativa migliora man mano che si prosegue e la storia è ben scritta e sa regalare anche un paio di momenti davvero intensi e coinvolgenti. Dal lato puramente tecnico devo reiterare ciò che ho detto nelle mie prime impressioni in quanto graficamente il titolo è ottimo. Ci sono alcune sbavature nel texto, soprattutto in alcune sezioni specifiche, come nella parte iniziale, ma per il resto il gioco ha un ottimo livello di dettaglio, soprattutto con i settaggi al massimo. Infatti soprattutto su PC le impostazioni grafiche vanno cambiate, in quanto quelle di default sminuiscono la qualità generica, perlomeno sulla mia macchina in quanto l'anti-aliasing di default è TAA o FXAA-TAA e questi sfocano tutto, creando una patina fastidiosa che diminuisce la nitidezza dell'immagine, così come il motion blur e la profondità di campo, che vanno assolutamente disattivati. Fatto questo il gioco ha una qualità cristallina ed esalta ulteriormente l'ottima atmosfera conferita dall'illuminazione dinamica e dal gioco di luci e ombre che è davvero eccellente. In tal senso è consigliato anche attivare la cache delle ombre se la vostra macchina non lo fa di default in quanto precarica le ombre dinamiche nella RAM evitando cali di frame rate e di lei di sorta, aumentando notevolmente la qualità dell'esperienza. Il frame rate poi è solido come una roccia, anche se in alcuni casi scende sotto la soglia dei 60, ci sono dei cali di frame rate solitamente quando caricate una nuova area di gioco, ma anche nelle sezioni più concitate non fa una piega. Ovviamente se lo acquistate su console queste sono considerazioni di cui non dovete preoccuparvi. È un titolo di ottima fattura in cui i vari elementi che compongono le esperienze di gioco sono mescolati in modo intelligente, sebbene la qualità di ognuno di questi elementi sia buona, Resident Evil 7 per quanto mi riguarda non fa gridare al miracolo sotto nessun punto di vista, nessun elemento si eleva al di sopra della media, in quanto se preso come horror a sé stante segue strade battute piuttosto sicure. Per i fan della serie è sicuramente un titolo da possedere, in quanto getta le sue radici nel passato glorioso della serie, riuscendo a spazzar via almeno in parte la macchia delle ultime sfortunate iterazioni. Se vi aspettavate un horror magistrale non è questo il caso, ma l'esperienza è comunque coinvolgente, soprattutto grazie all'ottima atmosfera e al design molto curato. Resident Evil è tornato in forma. E speriamo che questo sia solo il punto di partenza per un futuro nuovamente glorioso e ricco di sorprese.